WAPA STI BIDI BIDON WAPA STI BIDI BIDON Premo un play sul cramofono Inizia lo spettacolo Allora, con Alpette collaboro da circa 4 anni 5 anni mi sono occupato della radio che trasmetteva che trasmetterà credo ancora da Alpette per tutti quelli che saranno al festival e anche per quelli che ci ascolteranno sul sito www.radio1lab.com e anche un po' di musica mi sono occupato La mia esperienza con Alpette è iniziata, credo perché alcuni amici la organizzavano e quindi mi hanno invitato è stato bello ci vado sempre ci andrò ancora adesso ormai è come una vacanza fa parte della vacanza estiva per me ecco la cosa più assurda è una tipa che balla su una macchina Alpette Alpette che non è andata è una tipa di potenza che non è andata Grazie a tutti.